Svolta epocale del mondo del calcio, l'UEFA abolisce di fatto la regola del gol in trasferta. Quindi il gol in trasferta che vale doppio sarà ormai un ricordo a partire dalla stagione 2021-2022. Cosa significa questo? Che cosa cambia? Cambia che se in una competizione internazionale due squadre tra andata e ritorno hanno realizzato lo stesso numero di gol, indipendentemente da dove queste reti siano state realizzate tra casa e trasferta, in caso di parità si accederà ai tempi supplementari, due tempi supplementari da 15 minuti, e in caso di ulteriore parità si accederà direttamente ai rigori. È una svolta sicuramente importante, era una regola quella dei gol in trasferta che vigeva dal 1965, il presidente dell'UEFA, Alexander Seferin, ha in qualche modo dichiarato che quella regola sapeva un po' d'antico e che con il calcio moderno non poteva esserci più differenza tra gol in trasferta e gol in casa. Staremo a vedere se lo spettacolo ne beneficerà, ce lo auguriamo tutti. Torniamo però in casa Napoli. Ogni estate sembra essere l'estate di Coulibaly. Calidou Coulibaly resta, va via, è il perno del progetto futuro, ce lo racconta Sara Ghezzi. Il Napoli di Luciano Spalletti ripartirà da Calidou Coulibaly. Sarà ancora lui il perno della difesa azzurra nella prossima stagione, poiché non sono arrivate offerte soddisfacenti ad Aurelio De Laurentiis, che chiede almeno 50 milioni per lasciar partire il proprio campione. Il difensore senegalese è ben contento di proseguire la sua avventura all'ombra del Vesuvio e secondo alcune indiscrezioni si ricongiungerà col gruppo azzurro già il prossimo 15 luglio, quando avrà inizio il ritiro di Di Mano. Lì conoscerà Luciano Spalletti, che non vede l'ora di poter lavorare con quello che da molti è definito il difensore più forte al mondo, ma che è soprattutto una persona dal cuore d'oro. Infatti Coulibaly è sempre in prima linea nella lotta contro il razzismo, sempre pronta ad aiutare la gente del suo paese, il Senegal, ed è sempre pronta a regalare sorrisi a chi di sorrisi ne fa troppo pochi. Coulibaly e Napoli si sono dette ancora una volta sì, il matrimonio, iniziato nell'estate del 2014, proseguirà. Grazie Sara! E adesso voliamo al calciomercato. Il Napoli è sempre attivo sul calciomercato, sta sondando vari profili in vari ruoli. Ieri vi abbiamo parlato di Nuno Tavares, oggi vi parliamo di Basic e ci racconta la notizia il nostro Leonardo Litterio. Mancano soli 21 giorni all'inizio del ritiro di Di Maro. Il Napoli inizia a muovere i primi passi anche sul calciomercato ed il nome più ricercato e voluto per il centrocampo è quello di Thomas Basic, il centrocampista del Bordeaux, che è in scadenza nel 2022 ed è per questo che la società francese ha deciso di non mandarlo in prestito. Il Napoli è convinto e lo vuole davvero ed è per questo che ha offerto 8 milioni di euro senza contropartite ma con eventuali bonus a seconda delle prestazioni del calciatore. Anche la Lazio punta e vuole Basic ed è per questo che Giuntoli vuole accelerare i tempi e ha richiesto una risposta da parte del Bordeaux in tempi brevi, in tempi stretti anche perché vuole portare il calciatore al ritiro di Di Maro in modo da poterlo far analizzare da Luciano Spalletti ed è per questo che il Napoli punta su di lui e lo ricerca, lo vuole e soprattutto vuole dare un motivo in più a Luciano Spalletti di poter gestire al meglio la squadra in ogni occasione e prepararla al meglio per la prossima stagione, a partire dal ritiro di Di Maro. Grazie Leonardo! E non ci resta altro che augurarvi intanto una buona giornata darvi appuntamento domani alla stessa ora con il focus dell'avversario dell'Italia, quindi il focus sull'Austria dopo domani ci sarà l'editoriale di CalcioNapoli1926.it Restate con noi, buona giornata a tutti da parte di Ivan Scudieri Grazie a tutti!